Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Topland, ciao anche a tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV a cui invito tutti a iscrivervi. Bene, dunque, allora la Juve batte la Fiorentina 1-0, premiamoci questi tre punti, che era la cosa più importante sicuramente non abbiamo fatto la partita migliore, anzi secondo me è una delle peggiori partite della Juve quest'anno ovviamente abbiamo trovato una Fiorentina agguerrita, come è logico che fosse adesso la Fiorentina potrà continuare a fare le sue amichevoli prima della sua seconda giornata di campionato che si giocherà al Franchi, appunto, tra un girone. E niente, devo dire che la Juve è un po' sottotono, è normale quando si fanno tante partite ravvicinate fare qualche partita, un po' mi viene da dire, di scarico, cioè scarichi un po' mentalmente e l'importante è portarla a casa comunque, noi siamo stati bravi in questo. Sicuramente il lato positivo è il gol, il lato positivo è che Czesny non ha dovuto fare parate lati negativi, un po' ovviamente la condizione che è ancora latita, ma è normale anche che sia così e soprattutto quella psicologica perché questa partita l'abbiamo giocata veramente con poche gambe anche proprio per, ripeto, proprio perché l'abbiamo presa come una partita di scarico che purtroppo alla lunga può succedere, ma sono alla lunga quelle che ti fanno arrivare ai grandi obiettivi. Mi è piaciuto Sturano Terzino, che se ne dica, secondo me ha fatto un'ottima partita e mi è piaciuto tanto Betancourt perché è cresciuto, ha giocato un primo tempo magari non benissimo ma poi dopo soprattutto l'ingresso di Pjanic credo che abbia fatto vedere le cose migliori forse il centrocampo a tre è più, lui è più abituato a giocare a tre quindi riesce a fare sicuramente le cose migliori. Un po' opaca la prestazione di Dybala ma credo che sia normale, insomma non si può pretendere dal ragazzo che faccia sempre triplette e quindi niente, va bene così, nonostante il turnover, nonostante la fatica, nonostante tutto quello che volete Juve batte Fiorentino 1-0 e rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con il prossimo video. Ciao!